Ormai da qualche settimana stiamo descrivendo la Vigor Senigallia seguendo un percorso fatto da alcune parole chiave che sintetizzano quanto più fedelmente possibile la sua realtà. Ognuna ha la sua importanza e il suo rilevante significato, ma se dovessimo sceglierne una attorno alla quale ruota buona parte del progetto Rosso-Blu, allora probabilmente sceglieremo proprio quella di oggi, vale a dire giovani. Il settore giovanile per la Vigor Senigallia non è semplicemente una risorsa dalla quale attingere giocatori promettenti, magari da lanciare in prima squadra, ma rappresenta una vera missione. Il suo dalizio Rosso-Blu ormai da anni punta infatti ad accogliere e avviare i ragazzi ad una sana pratica sportiva per la loro formazione, non solo tecnica ma anche etica e morale.